wow amico appassionato di gaming di arston ciao sono il duca sabato e domenica pomeriggio sarò la games week di milano e se vuoi venirmi a trovare puoi farlo però devi iscriverti su instagram così almeno stai ragionato su dove sono posizionato ma oggi ragazzi la top 10 delle peggiori leggendarie delle espansioni di arston non consideriamo le classiche solo quelle uscite dopo quindi ci hanno avuto anche il tempo di pensarci andiamo subito a vederla fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto se non è mancata qualcuna partiamo subito dalla numero 10 e al numero 10 c'era fam il primo rapam che è una generica della lega degli esploratori costo 978 potevi discoverare un artefatto un artefatto incredibile che facevano cagare perché a costo 10 facevi 10 danni splittati sulla borde sul nemico a costo 10 potevi dare più 10 più 10 un servitore il turno dopo a 10 di mana e a costo 10 potevi fullare la tua borde con dei 3 3 mummie e robe del genere una carta lenta una carta brutta una carta che mi ha fatto soffrire perché in rafam ci credevo me l'hanno rovinato e questa non la perdonerò mai alla blizzard al numero 9 odds rook la rovina degli elementali più che la leggenda degli elementali una carta ignobile costo 9 5 5 elementale a provocazione e come grido di battaglia prende più 5 di vita per ogni elementale che è giocato nel turno precedente mai funzionato poteva essere silenziato un costo incredibile la targhettabile da magie da qualsiasi cosa e ragazzi è una carta ignobile per gli elementali elementali che abbiamo sempre voluto giocare ma che non siamo mai riusciti davvero a giocare ad alto livello odds rook bocciato al numero 8 c'è il mitico don ancio qua è una risata dietro l'altra ogni posizione ragazzi vi ricordate meccania vi ricordate non so la cabala i jade ma forse non vi ricordate che c'erano anche gli sgherritorvi gli sgherritorvi che hanno rovinato completamente l'espansione e il meta per quanto riguarda paladino hunter che scomparirono completamente dalla ladder completamente a causa anche del mitico don ancio ma un po il pacchetto che non funzionava warrior si salvò grazie ai pirati ma gli altri due classi rimasero fuori dalla porta grazie anche al mitico don ancio al numero 7 chi c'è al numero 7 carta di classe del warlock i rec fantastico questo 8 1 1 riempie la board di tanti 1 1 perché non c'era modo di pomparlo in maniera degna c'erano delle spell però dove averlo a sinistra dove averlo a destra al centro da parte e alla fine è una carta ignobile come avevamo visto insomma prima che uscisse l'avevamo già giudicata ignobile infatti si è rivelata una carta totalmente ingiocabile per quanto riguarda warlock che devo dire ha trovato sempre legendarie abbastanza scarse per non dire molto scarse o quasi sempre al numero 6 risate ragazzi scusate ma c'è il leviatano delle fiamme del mage costo 7 7 7 quando peschi questa carta infligge due danni a tutti i personaggi c'è una carta incontrollabile completamente senza senso pescava c'è due danni a tutti anche agli eroi e se avevi board te la resettavi automaticamente se l'aveva l'altro insomma non è messa giocata raga come fai a giocare una carta del genere stupida completamente stupida io vorrei che mi presentassero tutti quelli che hanno fatto le carte che io linko in questa in questa top 10 perché questa è veramente di una stupidità devastante leviatano delle fiamme e di quello che l'ho sbustata e piansi tanto che schifo e al numero 5 c'è una doppia carta ragazzi il doppio bolvar che lo tradisce la prima versione quella di gvg era un costo 5 1 7 che finché lo avevi in mano e un tuo servitore moriva prendeva più un attacco quindi alla fine delle 30 carte avevi un 30 di attacco 7 di difesa lo giocavi quello te lo resettava in quattro secondi con un silenzio con qualsiasi cosa faceva schifo poi hanno detto no salviamo bolvar perché deve essere così scarso no è ora il momento di fare sul serio e quindi creare un altro costo 5 1 7 con scudo divino che dopo che un tuo minion ha perso scudo divino prende più di attacco e lui stesso aveva scudo divino quindi diventava un 3 7 devastante no non ci siamo anche il paladino ha avuto insomma i suoi scheletri nell'armadio e bolvar in doppia copia in doppia versione è stato sicuramente orribile e passiamo un'altra carta orribile un'altra carta impresentabile la costo 5 1 6 del warlock la lana till che ha attacco per ogni carta che è scartato in questa partita che scartavi sempre anche lei perché chiaramente non c'era modo di tenerla in mano di controllare questa cosa una carta di una stupidità eccezionale la lana tilla ricordiamo per il suo trono per il suo vestitino e per niente altro che quando uscì insomma lo sapevamo tutti che sarebbe stata pessima ed è stata pessima davvero pessima come tutto il pacchetto del discard lock bocciato totalmente e adesso cominciamo a fare sul serio le carte più stupide le leggendarie più sceme mai create da blizzard al numero 3 troviamo murabi costo 644 quando un servitore viene ghiacciato viene frizzato aggiunge una copia di quel servitore la tua mano e tu mi chiederai galo amico ma era meige sta carta no sciamano sciamano c'aveva due o tre spellettine che non funzionavano una leggendaria buttata via senza alcun supporto neanche delle espansioni successive una carta che hanno creato senza alcun tipo di senso totalmente inutile peggio di così la vedo dura ma abbiamo ancora il numero 2 e la numero 1 e allora adesso andiamo a vedere la numero 2 al numero 2 ragazzi l'araldo celestia generica costo 4 5 6 dirai tu sì però a stelte e quando l'avversario gioca un servitore lei diventa una copia di questo servitore pensate non so se vi giocassero il vate che vi resetta la board o qualsiasi altra cosa che vi penalizza in maniera incredibile e tu hai votato via 4 di mana per non so un 1 1 quanto è stupida questa carta quanto è ingiocabile questa carta se non in situazioni incredibilmente particolari araldo celestia un fallimento totale totale ma c'è di più c'è di più eh sì ragazzi al numero 1 avete già indovinato chi c'è vero non ci sono dubbi aviana oscura costo 5 3 7 del druido nel turno di ogni giocatore la prima carta giocata costa 0 quindi se tu druido giochi questa carta è già la prima giocata nel turno e quindi dai un vantaggio enorme all'avversario che può giocare una qualsiasi carta a 0 rimuovere aviana come meglio crede e avere un vantaggio swing di tempo e di board e di tutto quello che vuole enorme una carta fatta per gli avversari questa è veramente follia questa carta io la trovo inspiegabile e sono veramente infastidito costernato e devastato dal fatto che l'abbiano chiamata aviana una così bella carta come aviana così leggera bella era anche fantacombante l'hanno fatto diventare oscura e l'hanno tradita malamente e questa cosa non la perdono mai a blizzard la carta è veramente un ripilante io penso che peggio di così sia impossibile ma aspetto i vostri commenti per sapere se questa top 10 vi è piaciuta e cosa avreste messo voi vi ricordo solo carte dell'espansione io vi ringrazio per il re che commenti le visualizzazioni e per i commenti qui sotto un saluto dal duco alla prossima ciao